Premetto che ero molto scettico su questo lavoro, avendo ascoltato anche alcune affermazioni dell'artista americano in cui ha dichiarato di poter far meglio dello storico Michael Bublé. Questo inedito Robbie Williams funziona nella performance di reinterpretare tutte le classiche canzoni natalizie, davvero un ottimo disco per le feste di Natale che permette un viaggio nelle melodie festive nostalgiche e in quelle più recenti.